Voi come proverete a superare questo? Guardi, noi non vogliamo scontrarci con nessuno, noi poniamo questioni di carattere politico, in modo molto netto e chiaro. Fino ad oggi sono stati fatti dei grossi errori, clamorosi. Noi vogliamo che Berlusconi non continui a fare questi errori e che si apra una fase completamente nuova. E su questo noi andiamo avanti fino in fondo.